ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo del grande fratello VIP Diane Melo contro tutti vediamo è andata in onda una nuova puntata del grande fratello VIP una puntata difficile per Diane Melo la modella brasiliana è stata al centro della serata per via dei suoi rapporti tutt'altro che idiliaci nella casa più spiata d'Italia nell'ultima settimana la modella è riuscita anche a rovinare pure legame più forte costruito fino a oggi ovvero quella con Ado Adelvesco ma anche con Giulia Salemi quest'ultima non ha gradito le critiche di Diane nei suoi confronti per via della storia d'amore iniziata con Pierpaolo Pretelli durante questa diretta la modella brasiliana ha anche tirato in mezzo la Orlando a cui ha affermato di non piacere il suo comportamento la conduttrice televisiva infatti nei giorni scorsi aveva confidato a Diane che in nomination avrebbe mandato più volentieri i nuovi inquilini piuttosto che i veterani mi fa pena perché dovrebbe rilassarsi di più e non pensare costantemente alle strategie io dico sempre le cose che penso questo è ciò che ha affermato Diane in puntata Stefania non ha commentato le parole della conquilina ma ha puntualizzato la mia colpa è essermi confidata con Diane nel corso dell'ultima diretta dopo aver visto una clip che riassumeva gli scontri tra Giulia e Diane la modella appare molto più serena io voglio che lei sia felice ora ha dimostrato che il suo legame è sincero e per me va bene così questo è ciò che ha detto Diane ma dallo studio interviene selvaggia Roma che non crede alle parole della modella non sei sincera Diane dice ad alta voce Di cosa? tra le due ragazze parte un duro scontro a distanza che viene interrotto da Stefania che sente di dover dire qualcosa alla sua conquilina smettila di dire cattiverie limitati ormai fra le due si può dire che non corre buon sangue e voi? che cosa ne pensate? scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news un grosso abbraccio da Gioret io faccio una bella risata Diane ha una grande personalità Mamma ha fatto gnocchi.